... Professore Marco Berrone, siamo qua a Gizzeria per la decima edizione del premio Caposuvero. Lei è uno dei premiati? Sì, sono dei premiati. È davvero un privilegio per me ricevere questo bellissimo premio e poi in una location così bella e soprattutto essere premiato nella mia terra perché io sono di origine calabrese. Queste manifestazioni contribuiscono a dare lustro alla Calabria per bene e all'eccellenza di questa terra? Sì, è assolutamente una manifestazione che vuole portare i valori positivi, vuole portare la Calabria, come ha detto lei, per bene e contribuire anche a diffondere quello che sono il lavoro dei tanti calabresi che vivono fuori dalla Calabria. Io ad esempio vivo a Roma, mi occupo di malattie dell'apparato cardiovascolare e ogni giorno nell'università dove io lavoro ricovero giovani calabresi che non potendo curarsi nella loro terra hanno necessità di andare fuori per salvaguardare la propria salute. Grazie. Grazie.